Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. I contagi in Italia continuano purtroppo a salire ormai da qualche giorno, lo sappiamo, in maniera anche determinante rispetto alle settimane passate. Grande preoccupazione soprattutto in vista del Ferragosto e governo e regioni che fanno il punto. Ci sono delle nuove direttive per quanto riguarda soprattutto chi ritorna dall'estero. Si vorrebbe applicare anche una stretta ai locali notturni, in particolare alle discoteche, su questo alcune regioni non sono d'accordo. Naturalmente anche la politica sui giornali di oggi con la questione dei furbetti del bonus da 600 euro che volge verso il suo epilogo. Domani il presidente dell'Inps Tridico verrà ascoltato in commissione il lavoro, però nel frattempo la Lega si smarca e sospende i suoi due deputati, Dare Murelli, di cui appunto si erano fatti i nomi in questi giorni. E poi c'è il Movimento 5 Stelle, oggi la consultazione sulla piattaforma Rousseau per quanto riguarda le alleanze locali e soprattutto la deroga al secondo mandato per Virginia Raggi che vuole presentarsi di nuovo come sindaco di Roma. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Ecco qua vedete in taglio centrale, teste, viaggi, ecco le regole. Tampone per chi torna da Grecia, Spagna, Croazia e Malta, scontro sulle discoteche, frontiere chiuse anche per chi viene dalla Colombia, i dubbi di Gabrielli sui controlli a tappeto. Per quanto riguarda la questione Covid e la ripresa della scuola, c'è un'intervista oggi sul Corriere della Sera alla Ministra Azzolina, i banchi nuovi già da settembre, lezioni dal 14. Questa fotografia ci racconta la tragedia che si è consumata nel Cuneese. Questi cinque ragazzi nel Burrone erano andati a vedere le stelle, erano a bordo di un fuoristrada, probabilmente chi era la guida ha perso il controllo, erano in nove, in una macchina che era in realtà però omologata per sei. In taglio alto dal Corriere della Sera, la questione che riguarda i furbetti del bonus Covid, la Lega sospende gli onorevoli sospettati, Dara e Murelli hanno preso il bonus. La difesa del deputato, Dara, che dice, l'ha chiesto mamma. E poi c'è il dilemma dei Cinque Stelle, terzo mandato, oggi il voto su Russo. Apertura della Repubblica, chiudere le discoteche, prima piano del governo di fronte all'aumento dei contagi tra i giovani ma regioni e gestori si oppongono, tamponi per chi rientra da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, scuola, non tutti i banchi a settembre. Oggi c'è un'intervista a Mario Monti, all'OMS, per rafforzare la sanità dopo l'epidemia. E ancora questa fotografia che ci racconta anche qui sulla Repubblica la vicenda di questi ragazzi. Nel Cunese, poi a firma di Maurizio Molinari, Joe e Camala, la ricetta liberal per, scusate, per riunificare l'America. Ancora la Lega ha deciso, sospesi due deputati con il bonus, rivolta a Cinque Stelle contro Casaleggio per il sondaggio sulla Raggi, Grillo e i sogni di mezza estate. La stampa, oggi c'è un'intervista a Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, Covid, linea dura a Ferragosto. Già allertati i prefetti, ma i giovani chiedo maggiore responsabilità. Partono a salire nuovi contagi, governo e regioni concordano una stretta su rientri dai paesi a rischio. E poi ancora un'altra tragedia che si è consumata ieri per una frana in Valtellina, famiglia travolta dal fiume di Fango. Andiamo a vedere anche l'apertura del messaggero. Anche qui si parla del tampone obbligo dopo le ferie. La mossa del governo per monitorare gli arrivi da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Stretta sulle discoteche, sconto tra esecutivo e regioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia un appello ai giovani. Ancora lo strano caso dell'isola di Pag, Mecca, della Movida e del contagio, il picco di positivi nella località croata. Naturalmente si parla anche del voto oggi del Movimento 5 Stelle. Un Movimento 5 Stelle diviso sul doppio mandato tra smanie e incubo. Disoccupazione ancora. L'Inps nel mirino del garante fuga di dati. Sospetta sui furbetti del bonus tridico spieghi i primi nomi. La Lega sospende due deputati. E ancora oggi c'è una decisione. Rischio dazzi americani sui vini italiani. Andiamo a vedere anche il sole 24 ore. Quotidiano economico, turismo, aiuti per il rilancio a 29 città. Oltre 500 milioni destinati alle attività commerciali, dei centri storici, bonus a fondo perduto e in caso di calo di fatturato di almeno il 33% a giugno. Il fatto quotidiano. La casta fa melina. Sei giorni per cinque nomi. Domani parla tridico. I deputati si sapranno ma i consigli regionali si coprono. Usciranno solo i nomi di chi lo chiede. Dall'Inps niente risposte al fatto. Il foglio dal quale vi volevo segnalare, a firma di Claudio Cerasa, c'è un vaccino per il virus del sospetto. Il Covid ha spazzato via fuffa demagogica per una lunga stagione. Ha messo alla gogna il mondo della farmaceutica. Un settore che oggi invece l'Italia può vantare come modello agli occhi del mondo. Una speranza anche per la ripresa. L'apertura del giornale. Eccola qui. Non solo bonus, i veri furbetti. L'Inps ha fatto dimenticare crisi e ritardi sulle zone rosse. Azzolina assunta, il suo cielo di Conte. Quanti? Auto? Aiutini? Indagine su tridico. Segnalazione? Sospetta. Bene, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e riprendiamo dopo con la lettura dei giornali. Bentonati studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura di Libero. Abbonata. La tassa di soggiorno non versata. Il regalo di Conte al suocero nel decreto rilancio. Depenalizzata l'evasione dell'imposta. I legali del padre della compagna di Giuseppe, un noto albergatore di Roma, adesso chiedono di annullare il patteggiamento. E poi l'Inps rivelerà chi sono i deputati papponi di bonus. Fuori tutti gli altri nomi. Vediamo anche l'apertura del manifesto. Ecco, la qui non c'è due senza tre, appunto, sulla votazione di oggi sulla piattaforma Russo. E poi ancora bonus IVA sospesi i due leghisti. Apertura del resto del Carlino. Il giro di vite sulla Movida e sulle vacanze. Ancora il tempo. Raggi Boys, il titolo di questa mattina. Dramma nel PD al ballottaggio per il Campidoglio. Non potrà fare meno di andare a lemosinare i voti dei 5 Stelle. Per tentare di vincere l'elezione a Roma, al Nazareno si può anche perdere la faccia. Ma scapperanno gli elettori. Apertura della verità. Eccola qui. Indagine sui dossier dell'Inps. Il garante della privacy chiede chiarezza sui metodi usati per il trattamento dei dati dei beneficiari dei 600 euro per le partite IVA. Su come sono state diffuse le notizie. Anche all'autorità è venuto il sospetto che sia un'operazione per coprire le bugie di Giuseppe. Poi ancora Renzi vuole l'obbligo di vaccino. Chi lo produrrà ha riempito di soldi la sua fondazione. Ancora l'apertura dell'avvenire. Eccola qui. Tamponi di frontiera sui nuovi provvedimenti del governo per cercare di arginare l'aumento dei contagi in Italia. E poi Kamala Harris la passionaria con l'ombra dell'aborto. La scelta della candidata vicepresidente dei democratici, donna africana-asiatica, segna una svolta. Diamo un'occhiata anche al mattino. Eccolo qui. Campania e la quarantena per chi ritorna dall'estero. Con l'ordinanza di De Luca a casa fino all'esito dei tamponi. Tamponi con multe fino a 1000 euro. Il governo anche qui testa per chi proviene dai quattro paesi ed è scontro sulle discoteche. Capo di Chino, effetto Covid, già persi 5 milioni di turisti. Allora andiamo alle pagine interne dei quotidiani. Partiamo con il Corriere della Sera. Eccolo qui con la stretta del governo e i tamponi per chi viene da quattro paesi. Il vertice con le regioni dopo le misure di controllo dei governatori, rinvio sulle discoteche. Ma Speranza chiede la massima prudenza. E poi ancora basta con le deroghe con il caos normativo. Spaventato dai contagi di governo richiama all'ordine le regioni e vara nuove norme uguali per tutti i valide fino al 7 di settembre. C'è stata appunto questa riunione in cui alla fine appunto si è trovata la quadra del cerchio. Volevo segnalarvi dal Corriere della Sera però l'intervista ad Agostino Miozzo, che è il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che dice in questa intervista se i numeri crescono a lockdown inevitabili per la scuola e non solo sarebbe un incubo. C'è grande preoccupazione, dice dobbiamo limitare gli assembramenti, vedo il senso di onnipotenza dei giovani, non possiamo lasciarci. Sfuggire altri focolai. Cosa dice in questa intervista? Dice noi monitoriamo la situazione, guardiamo i dati, ci piacerebbe molto far tornare la situazione alla normalità, ma adesso c'è grande preoccupazione. Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle terapie intensive, nessuno è invulnerabile. Ricordiamoci che questa è una malattia maledetta, quando colpisce può far male. Il numero degli esterni che vengono in Italia o di italiani che tornano dalle vacanze all'estero è considerevole, tanto che questa regola vale anche per chi arriva da Romania e da Bulgaria, il discorso appunto dei test e dei tamponi, però bisognerebbe avere regole uguali per tutti. E poi dice tra i nuovi contagiati c'è una quota alta di persone che scoprono di aver ballato troppo e di aver fatto vacanze nel pieno disprezzo delle regole minime, che con ossessione continuiamo a raccomandare, perché sono le uniche vere terapie protettive, bisogna intervenire su questo. E poi dice appunto che non sta passando la percezione del pericolo, mi preoccupa il senso appunto di onipotenza dei giovani, e poi dice l'andamento della curva epidemica, ci dice che l'Italia è in movimento, il virus sta viaggiando, se ci faremo sfuggire nuovi fucolai avremo guai seri, non ce lo possiamo permettere. Così appunto l'intervista del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Sempre dal Corriere della Sera vi segnalo l'intervista al Ministro dell'Istruzione Azzolina. I primi banchi nuovi in aula già a settembre, niente mascherina con il distanziamento, lezione al via il 14, faremo 97 mila assunzioni. E che cosa dice in questa intervista la Ministra? Nessuno di noi pensa che si possa tornare ad un lockdown generalizzato, siamo più preparati e laddove si verificasse qualche caso locale, abbiamo considerato il rischio chiusura e preparato gli strumenti per affrontare la situazione. Dice oltre all'inie guida sulla didattica digitale abbiamo investito 180 milioni per comprare device e fatto un ulteriore bando per 236 milioni per comprare agli studenti meno abbienti libri, pc e zenetti. La situazione di oggi è molto diversa dallo scorso marzo, siamo l'unico paese in Europa che sta lavorando sul distanziamento per far entrare in tutta sicurezza. gli studenti a scuola. E poi appunto si parla dei banchi, dopo tante riunie i banchi del Commissario Arcuri sono stati affidati a 11 imprese, ma arriveranno ad ottobre, cominciamo bene, gli viene fatto notare in questa intervista, arriveranno anche a settembre, dice io penso che comprare 2,4 milioni di banchi sia un risultato enorme. E questo appunto quanto sostiene la Ministra Azzolina. E poi appunto si parla di altre varie questioni e l'ultima domanda che gli viene fatta, davvero non teme che un flop dell'apertura possa tirare giù il Governo? E lei dice assolutamente no, abbiamo fatto un lavoro importante che è il lavoro di tutto il Governo, sostiene il Ministro dell'Istruzione. E sempre da Corriere della Sera andiamo a parlare delle questioni che riguardano la vicenda dei furbetti del bonus. Dara e Murelli presero il bonus, la Lega sospende i due deputati per il terzo beneficiario, sospetti su un 5 Stelle, domani l'audizione di Tridico con le identità. E ancora quegli elenchi degli 007 IMS e la manina che li fece uscire, ecco come è andata sui nomi, il ruolo dell'unità antifrode e l'autodifesa di Tridico. Le verifiche affidate al Direttore Generale che ha rapporti tesi con il Presidente. Secondo questa ricostruzione dei fatti è molto importante la tempistica, domani dovrà riferire il Presidente dell'IMS anche su questo. Verso la fine di maggio l'unità antifrode dell'IMS guidata da Antonello Crudo informa il Presidente Tridico che nell'elenco delle persone che hanno chiesto il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi ci sono anche 2000 politici e amministratori locali, tra cui tre deputati. Un controllo mirato proprio su di loro? La risposta è che politici e amministratori hanno un inquadramento previdenziale particolare che viene fuori dalle banche dati dell'Istituto, ma per l'unità antifrode non c'è nessuna frode appunto e nemmeno una situazione di incompatibilità, tant'è che pochi giorni dopo quelle 2000 persone il bonus viene regolarmente liquidato e l'antifrode si limita a sottoporre la questione al Presidente, dovrebbe finire lì e invece la questione poi è venuta fuori come ben sappiamo in questi giorni. Il produttore di calze e la consulente, i due appunto leghisti, lei si scusa e spiega, lui si scusa e spiega, l'ha chiesto mia madre, lei disse il governo importa il Covid con gli immigrati. Ancora c'è un'intervista a cancellieri ex candidato del Movimento 5 Stelle alla guida della regione Sicilia aver chiesto a quei fondi uno squallore unico, chiede il Movimento 5 Stelle, sarà cacciato, fantapolitica, sospetti sul taglio dei seggi, finisce sempre così se hai il figlio grasso della colpa al macellaio sotto casa. Il voto sulla riforma e tridico sono usati per coprire la vergogna di certi eletti. Andiamo a vedere un attimo anche sulla Repubblica, che cosa ci propone oggi e vi volevo segnalare in particolare le questioni che riguardano il Movimento 5 Stelle e diamo un'occhiata ancora rapidamente. I 5 Stelle votano su Raggi e PD, parlamentare rivolta contro casa legge e crimi patuanelli. Cerchiamo candidati comuni con idem, buffagni, temi seri, non da decidere a Ferragosto perché appunto ci sono molte polemiche anche su questa consultazione che arriva in questo mese. E ancora per quanto riguarda la questione del Covid, c'è un reportage sulla Repubblica, mascherine sotto i piedi, le notte senza memoria dei ribelli della Riviera 800 in pista alla Villa delle Rose di Misano, già chiuso e riaperto. Il patrono assediati dal prefetto ma fa rispettare le regole, dice, è impossibile. C'è un'intervista ad un DJ famoso che lui stesso dice mentre si balla non si può stare a distanza come si vorrebbe. Si è parlato addirittura di una distanza da rispettare di due metri. E ancora vi volevo segnalare per quanto riguarda invece le questioni legate ai furbetti del bonus. Questa intervista che troviamo su Repubblica al vicepresidente del Veneto che aveva chiesto gli aiuti per le partite IVA. Forcolini è espulso dalle liste ma Fontana è ancora al suo posto. Dice, ho sentito Zaia e gli ho spiegato tutto. Si devono dimettere quei politici che hanno comprato il monopattino allora con gli incentivi. Come a dire, appunto, dobbiamo essere trattati tutti allo stesso modo. Andiamo un attimo rapidamente anche sulla stampa da cui volevo segnalarvi l'intervista che troviamo oggi a Luciana Lamorgese proprio in vista del Ferragosto. I giovani sottovalutano i rischi, dice controlli serrati. Il ministro dell'Interno a settembre voto a casa per chi è in isolamento. A proposito appunto della questione del Ferragosto, dice, i prefetti si sono già attivati per predisporre anche a Ferragosto una modalità di controllo più serrato nelle zone turistiche e nelle aree cittadine frequentate dai giovani molti dei quali sottovalutano i rischi a cui si espongono. Ci sono regole ben precise da osservare a partire dal distanziamento sociale e dall'uso delle mascherine al lavaggio ripetuto delle mani. E poi appunto si parla anche della questione delle scuole, come vi regolerete con la riconsegna delle scuole, i locali scolastici saranno sanificati con particolare attenzione prima di tutto, prima di essere restituiti nella giornata di martedì 22 settembre. Questo per quanto riguarda appunto le elezioni che verranno fatte il 20 e il 21 di settembre. Sono pochi i sindaci che hanno segnalato la disponibilità di locali alternativi alle scuole per allestire i seggi e comunque il primo passo che speriamo possa portare le più presto a soluzioni strutturali per evitare le consultazioni elettorali finiscano per condizionare e regolare lo svolgimento della didattica come peraltro appunto è stato finora. Sulle navi quarantena dei migranti, dice, sono sicuri e non pesano sulle comunità locali. Sempre dalla stampa diamo un'occhiata anche, vediamo un attimo, eccolo qui, la questione, facciamo un passo indietro, che riguarda sempre la politica. In Veneto il carroccio si divide, Zaia ora pensa a salvare il suo vice. Il governatore prova a tenere duro su Forcolina, abbiamo visto prima l'intervista, che non ha incassato i soldi, sono stati richiesti da uno studio di cui lui fa parte, ha spiegato in questa intervista, ma è alto il rischio di dover cedere alle pressioni e di sacrificarlo. C'è un'intervista a Roberto Cota sulla stampa, ex presidente del Piemonte, travolto dallo scandalo dei rimborsi pazzi. Il problema è che il 90% dei politici non ha un altro lavoro e difende con i denti la poltrona, hanno sbagliato a chiedere i soldi, dice in questa intervista, ma basta con i processi di piazza. Ultima pagina che volevo farvi vedere, la prendiamo dalla Repubblica, eccola qui, troppe fughe di dati sospetti, l'Inps nel mirino del garante, domani abbiamo detto che Tridico riferirà in commissione lavoro. Bene, tutto per la rassegna stampa, ci ha raggiunto il studio Paolo Sottocorona, qui diamo il buongiorno. Grazie, grazie, buongiorno. Questa mattina una piccola novità, ce l'abbiamo rispetto al solito, a quest'ora sapete di solito, insomma, di nuvole ce ne sono poche, di nuvole ce ne sono abbastanza poche, però guardate, in questa zona della Lombardia ci sono temporali, quindi è molto probabilmente, questo si vedrà poi nelle prossime ore, uno strascico dell'instabilità del pomeriggio, che a volte attraversa tutta la notte e si ripresenta ancora la mattina, quindi sostanzialmente la previsione è che questi temporali si attenueranno e se ne ripresenteranno altri, in realtà, nel pomeriggio. Infatti, se andiamo a vedere le precipitazioni previste per tutta la giornata, non sono tanto sulla zona della Lombardia, dove ci sono in questo momento, quanto sul Trentino, sul Piemonte, i fenomeni intensi sono isolati, però ci sono meno sulle altre zone del nord, al centro e al sud, ovviamente, insomma, data la situazione, non c'è assolutamente nulla. Vediamo la giornata di domani, domani c'è una tendenza a spostarsi verso est di questa instabilità, infatti, guardate, su Val d'Aosta, Piemonte, anche sulla Lombardia occidentale, non sono previsti fenomeni significativi, qualcuno sulla Lombardia settentrionale, poi vedete il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, in parte il Veneto, qui questi fenomeni ancora ci potrebbero essere, guardate quanti ce ne sono ancora più a est, qualche debolissima pioggia sull'Apennino centrale, ma veramente poca cosa, e infine la giornata di sabato, in cui questa instabilità si riduce ulteriormente, si attenua, rimane presente soltanto sul Friuli Venezia Giulia, e poi, rispetto ai giorni scorsi, forse una maggiore probabilità di piogge, ma sempre molto deboli, sull'Apennino centro-settentrionale, su queste zone interne, fra Campania, Molise e Puglia, forse qualche isolatissimo fenomeno, ma nel complesso la situazione diventa addirittura più stabile, il che, sapete, con le temperature, cioè, va d'accordo nel senso che aumentano le temperature quando il tempo è più stabile. Le minime di questa mattina, sostanzialmente più o meno le stesse dei giorni scorsi, sono medio-alte, guardate la temperatura del mare, soprattutto sui bacini meridionali, insomma, non siamo lontani dai 30 gradi, per avere un'idea. E poi lo stato dei mari, piuttosto tranquilli, localmente, vedete lo Ionimo, molto a largo, verso le isole Ionie, e poi intorno alla Sardegna, al Tireno settentrionale, localmente mossi, gli altri sono decisamente poco mossi, o spesso anche quasi calmi. Se volete ci vediamo subito prima delle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuele Agarulli. è più tardi.